Figa Ma che gente è stato? Un aereo precipitato, io ho sentito, non lo credo, ho sentito eee, boom! Ma è un aereo piccolo? Ma insomma non è tanto piccolo, un piccolo sì, ma un piccolissimo, ma c'era qualcuno dentro, dentro il palazzo lì? Forse io ho visto che cazzo, speriamo di no, puttana era! Figa! Ma che gente è stato? Un aereo precipitato, io ho sentito, non lo credo, ho sentito eee, boom! Io l'ho visto proprio! Ma è un aereo piccolo? Ma insomma non è tanto piccolo, un piccolo sì, ma un piccolissimo, cioè non era un aereo! Ma c'era qualcuno dentro, dentro il palazzo lì? Forse io ho visto che cazzo, non so, speriamo di no! Finchia, speriamo di no, puttana era!